Si sta a Giovanni Giuseppe Pesce per ricostruire un po' quello che sta accadendo in queste ore, colloquio con il sindaco che era previsto per la mattina di questo lunedì, spostato però a martedì pomeriggio. Innanzitutto siete soddisfatti del fatto che sia stato confermato questo incontro col sindaco, immagino? Diciamo di no, perché noi eravamo rimasti pronti sull'ultima intervista che oggi alle 10 avevamo questo incontro, però il sindaco era fuori sede e ha detto di rinviare tutte le ore 16 che sarebbe domani. Come risultato non siamo soddisfatti perché il rumor dei tassisti inneggiavano che era una cosa un po' prestabilita. Non vorremmo che a giorni a giorni poi ovviamente l'inviano sempre, questo è il discorso. Parlavamo prima di questa intervista anche del fatto che è importante chiarire che non tutti i tassisti fanno parte di una qualche sigla sindacale, anche perché abbiamo letto varie posizioni in questi giorni è importante fare dei distinguo. Diciamo che oggi, proprio oggi su una testata giornalistica del luogo è uscito un trafiletto di un nostro collega, anzi collega, facendo parte della nostra stessa cooperativa. Io ribadisco e ribadirò fino alla morte che noi sull'isola e fra noi tassisti non vogliamo nessuna sigla sindacale, anzi questa sigla sindacale che si spaccia come sigla sindacale per noi non ci rappresenta. Noi siamo partiti da ottobre senza sigla sindacale e continuiamo senza sigla sindacale. Noi ci stiamo battendo per i nostri diritti, questa cooperativa viene solo sull'isola, solo quando vuole lui, quindi automaticamente noi ribadiamo che non vogliamo questa sigla sindacale. Parteciperete all'incontro con il primo cittadino, con una delegazione, con qualcuno di voi che andrà ad ascoltare? Noi facciamo parte di un gruppo di 70 persone, abbiamo 70 tassisti, tutti colleghi, tutti amici dove ci stiamo battendo di ribadisco da ottobre. La cooperativa dove stiamo viene solo quando deve venire, quando sa lui che deve venire. Noi domani ci saremo, anche se questa cooperativa dice che ha un suo rappresentante, per me non è un rappresentante, è una persona comune come me, un tassista comune come me. Quindi noi domani ci siamo, sia da cittadini, sia da persone semplici, però ci siamo e continueremo e continuo la battaglia per i 116 tassi di Ischia che vogliono essere rispettati dal sindaco e dall'amministrazione.